benvenuti a nome di webank io sono alan vincenzo gendusa e oggi lunedì 19 giugno 2023 abbiamo l'appuntamento con paolo serafini tecniche di scalping la rubrica che facciamo insieme a paolo ciao e bentornato ciao alla e buongiorno a tutti i telespettatori allora paolo iniziamo la settimana con te quindi qual miglior webinar possiamo mettere diciamo per i nostri clienti e per coloro che che ci stanno seguendo di che cosa parliamo oggi oggi parliamo di correlazione che c'è tra il future e le azioni l'altra volta avevo detto avevamo promesso questo webinar quindi faremo vedere quali titoli si possono andare subito a monitorare per cercare di fare operazioni in base ai movimenti del future per vedere se ha più forza o meno forza quindi questa correlazione diretta che c'è tra le azioni e i future quindi faremo vedere questa cosa qui oggi esatto quindi è un'informazione questa molto molto importante andare ad analizzare la forza relativa prima di entrare nel vivo del webinar ovviamente faccio il solito passo indietro richiamando il disclaimer che vi facciamo vedere all'inizio del webinar perché nel disclaimer c'è un espresso invito ad andare a vedere la pagina degli esperti dove trovate chiaramente anche il nostro Paolo Serafini Paolo non ha bisogno di presentazioni ma all'interno di questa pagina potete prendere visione del background professionale della metodologia operativa avete anche un curriculum vitae poi andando qua trovate il punto di contatto che è topborsa.com quindi mi raccomando per voi è fondamentale e qua sotto trovate tutta una serie di altre informazioni molto utili tra cui una playlist con tutti i webinar fatti con WeBank Paolo Serafini ha spaziato su diversi argomenti dal book all'analisi volumetrica alle opzioni alle emozioni del trader e oggi per esempio la forza relativa quindi mi raccomando sono sempre tutti i webinar molto 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 interessanti vi faccio vedere i recapiti perché se volete diventare clienti WeBank potete contattare direttamente me al 347 28 03 056 oppure per email dalla vincenzo punto gendusa chiocciolapromotori punto banco bpm punto it con questi webinar avete un'opportunità unica quella di entrare a far parte dei clienti WeBank con delle condizioni molto vantaggiose in particolare avrete due vantaggi il primo vantaggio è l'assistenza gratuita diretta all'interno del trading team della banca e in particolare ce l'avrete con me questo è uno dei servizi migliori che noi offriamo totalmente gratuiti per il cliente di eccellenza consiste inoltre tutti i contatti di accesso alla banca che sono il sito le mail call center le filiali banco bpm eccetera un referente diretto all'interno del trading team quindi questo per voi che fate trading è sicuramente molto molto importante il secondo vantaggio sono delle condizioni molto privilegiate soprattutto all'inizio del vostro rapporto con la banca per ottenere questi vantaggi cosa dovete fare dovete andare nel sito webank punto it cliccare apri conto inizieranno a chiedere i vostri dati e troverete nella prima pagina uno spazio chiamato codice promotore quindi voi dovete inserire questo codice che trovate qua in grassetto quindi pf 52 118 inserite questo codice completate la procedura di richiesta di apertura conto e mi contattate o tramite whatsapp o al cellulare o tramite email dicendo che avete seguito uno dei webinar di paolo serafini a quel punto avrete poi le condizioni speciali che riserviamo a coloro che seguono paolo serafini paolo ricordiamo anche che insomma tu sei uno dei formatori più importanti per quanto riguarda il panorama italiano panorama finanziario italiano e che riserviamo anche delle condizioni ancora più speciali a quelli che sono i tuoi allievi questo perché ci teniamo a dirlo per noi che siamo una banca quindi webank è un banco bpm una delle più importanti banche italiane riteniamo fondamentale la vostra formazione quindi più siete formati e più avete probabilità di riuscire a stare sul mercato giusto paolo sei muto sei muto sì esatto bisogna fare un po di formazione prima mi sentite sentite bene sì adesso sì ok sì no è detto giusto bisogna fare formazione prima di entrare sul mercato perché tutti quanti si parla di trading online dopo alla fine si pensa che mettere i soldi e si riesca a guadagnare anche abbastanza velocemente dalle dalla pubblicità che passa su internet in realtà fare questo come lavoro oppure fare anche dei piccoli investimenti richiede veramente delle grosse conoscenze quindi già aspettare un attimino prima di investire i soldi non buttarsi a capofitto su questo su questa attività anche per fare anche piccoli investimenti ma cercare di informarsi un attimino di seguire qualche webinar che ne avete veramente tanti e c'è la possibilità di imparare rispetto a una volta che non c'era non c'erano questi video gratuiti che si poteva accedere quindi ognuno si può fare la propria idea e cercare di capire qual è la sua strada quali potrebbero essere le cose che gli interessano di più e cercare di minimizzare il rischio che il rischio in borsa si fa fatica a toglierlo totalmente però minimizzarlo si riesce a farlo durante 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 le sedute di trading quindi adesso faremo questa diretta vi farò vedere un attimino cosa intendo io per per forza relativa sui determinati titoli rispetto in frucio di riferimento quindi potremmo vedere queste correlazioni che c'è fra le azioni e i future è quello che solitamente serve fare io perché una volta e mi sono trovato a perdere veramente di bei soldi in chiusura di mercato ero long sul titolo il 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 future andava su e questo titolo andava sempre più giù e quindi non capivo perché questo titolo c'era un altro ragazzo che era short sul titolo il titolo non veniva mai giù e quindi lui alla fine diceva guarda io sono short se invertivamo l'operazione tu andavi long sul mio io andavo short sul tuo prendevamo i soldi tutte e due non c'eravamo corti di una cosa importante siamo rimasti in studio a studiare un altro po alla fine abbiamo capito cosa dovevamo osservare prima di fare determinate operazioni ed è quello che vi farò vedere tra poco durante la diretta hai avuto qualcosa da aggiungere a perfetto no sono molto curioso di entrare direttamente nell'argomento anzi ricordiamo che chi ha delle domande potete utilizzare la chat su youtube se ci state vedendo in diretta oppure eventualmente contattarmi su whatsapp al 347 2803 056 vai paolo ecco sì se ci sono domande giramele subito così mi fermo e chiariamo subito eventuali eventuali dubbi non ho il tuo link per passarlo sul canale telegram a casomai se me lo giri dopo riesco a girarlo così qualcuno magari adesso 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 te lo do io te lo do io si arriva subito telegram così riesco a girarlo immediatamente i ragazzi allora per quanto riguarda vi dico subito una cosa importante che mi è successa circa nel 2001 c'era un mio amico che aveva che aveva liquidato le posizioni dopo lettore gemelle aveva un bel capitale da investire e mi aveva chiesto che tipo di azioni poteva acquistare sul mercato e col momento lì io gli ho detto guarda c'è un titolo che a mio avviso dovrebbe andare su molto velocemente questo titolo si chiama autostrade anche lui mi ha chiesto ma perché proprio autostrade piuttosto che un altro titolo ha detto mi dice questa cosa qui su autostrade potrei magari andare a prendere andare a visualizzare qualche altro titolo per fare investimenti poi io gli ho detto guarda autostrade perché sto vedendo che il mercato sta scendendo forte se si ricordiamo dopo lettore gemelle il mercato si è salito successivamente alla terza settimana dopo le due settimane che ha fatto il ribasso che aveva perso le due settimane lettore gemelle il famoso 11 settembre quel martedì è sceso per nove sedute di fila dopo di che la settimana dopo ha guadagnato il 23 per cento aveva perso 22 nelle due settimane precedenti però da lì dopo il mercato non è salito non è salito il mercato però piano piano è iniziato a venire giù e venire giù continuamente un titolo in particolar modo che non era sceso che aveva mantenuto di livelli importanti vedendo il mercato andava giù era autostrade autostrade si si era stabilizzato a ridosso mi sembra di 4 5 euro per quell'area lì e da lì non veniva più giù autostrade sebbene il mercato perdesse due tre quattro punti percentuali al giorno autostrade rimaneva fermo allora lì mi ha fatto scattare una molla che molto probabilmente autostrade aveva già raggiunto dei minimi importanti anche se il mercato proseguiva la sua discesa nelle sedute successive a mio avviso un buon investimento da fare su autostrade io ne ho preso un po e chiaro che dopo alla fine mi sembra di averle vendute a 6 7 euro e dopo autostrade è andato su veramente tanto dopo qualche anno ho trovato mio amico dopo due tre anni è un ragazzo che abitava lì vicino a casa mia però non lo vedevo perché lavorava in montagna quindi una volta ogni morti di papa poi io pensavo le avesse già chiuse autostrade io gli ho detto allora hai preso bene con autostrade no no hai detto guarda le ho ancora le aveva autostrade pensate era 22 euro era le autostrade quindi dopo le ha vendute mi ha detto che si è preso due appartamenti in montagna quindi veramente ha guadagnato molto bene per cui se io vedo che il future di riferimento faccio un esempio ad esempio cioè cos'è che guardiamo noi se stiamo facendo 3d sul mercato italiano guardiamo il fib non è che possiamo andare a vedere il nasdaq o lsp 500 si stiamo tradando il mercato italiano per cui io diventamente valutino dopo mi farò vedere delle slide cosa cerco di interpretare quando il mercato fa determinate determinate cose quindi su titoli grossi vado a vedere come si muovono in base all'andamento del future di riferimento in questo caso facendo titoli azionari italiani vado a vedere cosa sta facendo in quel momento lì il derivato nostro quindi il fib in quel momento e quell'anno lì avevo visto che il film mi faccio l'esempio il film veniva giù continuamente invece autostrade rimaneva ferma incollata che ha fatto una buona base nel nostro di mi sembrò 45 anni mi ricordo proprio esattamente è proprio il film veniva giù e iniziato stare rimaneva fermo quindi mi faccio vedere che autostrade aveva una forza relativa superiore al mercato e quindi dicevo cavolo non viene più giù vedete mentre già rischiato il fondo e potrebbe andare su la stessa cosa l'avevo notata io siccome un trader di generali avevo notata sui generali che generali era arrivata che quotava 27 28 euro è arrivata a 13 euro da 13 euro generali non va più giù caricavano continuamente 100 mila pezzi 150 mila pezzi 200 mila pezzi una volta che si esoriva a livello di 13 euro quindi anche lì sui generali è un titolo che avevo notato che non andava più giù tra le due alla fine ho preferito dargli autostrade però che generali dopo la fine è andata su e abbiamo visto nel corso della storia generali arriva sempre sui 17 euro quindi sopra i 17 non lo compro mai per quando arriva sotto i 17 la compro sempre quindi questa cosa qui combinata dopo nel corso degli anni quella operazione che vi ho detto all'inizio che ho fatto io avevo fatto un long su un titolo ed era venuto giù il mio amico aveva fatto uno sort su un altro titolo e il titolo è andato su praticamente io hanno dato sorta perché ero andato long su un titolo perché ho visto che il titolo è stato debole tutto il giorno era arrivato sui minimi avevo visto che il nostro derivato stava salendo perché io dico guarda compro il titolo che adesso dovrebbe salire gli ultimi 20 minuti maggiore dovrebbe salire perché il future stava salendo il mio amico invece cos'è che ha fatto era il titolo che era arrivato sui massi l'aveva sortato quindi aveva fatto uno short non so se si vede bene la lavagna si vede bene si si vede benissimo e con il future che è andato su questo titolo è andato ancora più su quindi il titolo che era short che era più forte al mercato il mercato è andato su è andato ha sparato ancora più su il titolo debole che era più debole del mercato sebbene il mercato sia andato su è rimasto fermo addirittura è andato leggermente giù e quindi ho perso i soldi e dopo alla fine mi ha fatto l'asta di chiusura più più debole più debole di quello che era lì quindi lì ho imparato due cose una di mettermi sempre sui titoli che sono più forti del mercato e guardando il mercato se il mercato magari mi fa più 0,50 0,60 e un titolo mi fa magari più 1,5 più 2 vuol dire che è più forte al mercato quindi mi concentrerò più sui titoli più forti del mercato perché hanno una forza esplosiva molto più importante adesso vi farò vedere un esempio proprio della seduta di oggi l'altra cosa di evitare assolutamente i titoli che sono più deboli rispetto al mercato oppure fare qualche operazione short però quando sono più deboli del mercato rischio dopo che il mercato mi vada su un attimino rischio che dopo il mercato in questo caso qui adesso vi farò vedere proprio un esempio due titoli STM e Unicredit STM vi faccio vedere le slide che ho tenuto sto vedendo STM che sta scendendo STM che era più debole del mercato oggi e Unicredit che era più forte STM sta rompendo i minimi di seduta Inicredit sta andando attaccare i massimi di seduta è proprio l'esempio che ho fatto adesso qui quindi abbiamo l'esempio proprio di quello che sta capitando sul mercato in questo momento quindi adesso vi provo delle slide provo a vedere questa cosa qui e una cosa un'altra cosa che volevo farvi vedere quindi se il titolo presento qui la lavagna possiamo mettere magari se qualcuno ha difficoltà a capire esattamente come funziona questa cosa può mettere una media mobile o a 15 periodi o a 20 periodi una media mobile e va a vedere come è posizionato il FIV rispetto e come posizionato il titolo rispetto al FIV tutti i due grafici facciamo un esempio a due minuti e cinque minuti se vedo del FIV è qui sopra quindi sopra la media 15 o 20 periodi quella che volete mettere voi e invece il titolo UCG facciamo un esempio sotto in questa zona qui vuol dire che il titolo è più debole rispetto al FIV quindi è anche facile da vedere intuitivamente lo vedete bene sul grafico se invece vediamo che il FIV è qui e unicredit è qui sopra quindi è molto più alta rispetto alla media mobile vuol dire che unicredit è più forte del FIV mi metto accordo su unicredit assolutamente no quindi questa cosa qui studiando il mercato ho capito che non dovevo fare operazioni corte su titoli che erano più forti del mercato non dovevo fare operazioni lunghe su titoli che erano più deboli del mercato per oggi però quindi la seduta di oggi perché ho visto che oggi era così domani ma ricambia tutto il discorso vi faccio vedere adesso velocemente vi faccio vedere quindi ne vado a condividere lo schermo un attimo se si vede bene si vede bene la piattaforma sì perfetto ok andiamo a vedere qui mi sembra un attimo unicredit guarda che l'ho messa qui e dopo mi sembra che avevo che Leonardo che anche Leonardo non mi faceva vedere tanta debole stamattina però andiamo a vedere un STM un attimo che vado a prendere STM no estellantis questa eccola qua guardate i due grafici guarda quello che capita due minuti possiamo mettere due minuti anche questo ok guardate guardate unicredit come è accelerato e guardiamo STM che sta venendo giù e invece unicredit sta andando su e il FIB è qui sopra il FIB quindi è andata una piccola accelerazione FIB a rialzo si è mosso di poco in questo momento qui però abbiamo visto come abbia accelerato forte unicredit e come abbia venuto forte STM ecco questo è quello che intendo quando io vado a fare l'operazione su titoli vado a vedere se è una forza relativa quindi qui su unicredit oggi è la seduta di mettersi solo non si possono fare short è chiaro potrei mettermi short qui per prendere qualche ticche però vedendo che è più forte mercato cerco di evitare le operazioni short ma rifaccio 20 operazioni e farò 19 long e una la farò short stessa cosa su STM invece quando vedo queste situazioni cerco di evitarlo perché sto prendendo un morto che non ha reazione non è una persona che è ammalata che fa fatica ad andare giù la febbre se gli do l'attacchipirina il primo giorno che un bambino ha la febbre anche noi se abbiamo la febbre a 40 il primo giorno che prendiamo l'attacchipirina fa fatica a scendere il secondo giorno cambia totalmente prendo l'attacchipirina il secondo giorno la febbre magari 38 mesi ma subito a 37 36 dopo mezz'ora quindi adesso è un malato STM quindi non andiamo su l'ammalato STM andiamo se ho fatto un esempio non è per dire di ammalati però capite bene che STM in questo momento ha delle difficoltà quindi non andiamo sul titolo che ha difficoltà e unicredit non ha difficoltà guardate che il fibra è fermo però vediamo che in questo momento unicredit sta salendo ancora quindi vediamo un fibra non so se sia in tempo reale oppure sono un attimino ritardato io sono il fibra sulla piattaforma penso di essere quindi siamo in tempo reale qui siamo 13 e 18 sì tempo reale no no sei in tempo reale sì quindi no no perché vediamo che unicredit è ancora forte cos'è che possiamo fare su unicredit per fare dell'operazione allora faccio vedere un attimino come ragiono io Mario un due minuti un cinque minuti cos'è che faccio io io vado a vedere cosa fa se qualcuno ha già guardato il webinar precedente è chiaro che non è che vado ad acquistare unicredit perché vedo che è più forte lo prendo così a caso devo comprarlo se vedo che ci sono determinate condizioni un patte grafico o a livello volumetrico quindi due cose devono essere insieme abbiamo detto le scorse volte che uno dei patte grafici se qualcuno mi segue uno dei patte grafici che preferisco lavorare quando faccio trading è il dhs il dhs è il big anche stop è la caccia alla grande caccia agli stop questa grande caccia di stop solitamente vado a vedere se abbiamo un minimo intraday quindi su minimo intraday se me la vuoi a rompere recupera io sono long il contrario nella parte alta invece siamo magari quindi minimo delle 10 mi fa un minimo alle 11 faccio l'operazione però calcolate che solitamente uno che entra a mercato specialmente c future non è che rimanga a mercato tre quattro ore adesso dove stiamo vedendo ancora stanno ancora giù la condivisione così vediamo vediamo ho interrotto la condivisione oppure ci siamo ancora con la condivisione no 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 vediamo la piattaforma dico voli far vedere la lavagna dietro era meglio far vedere ok non so si vede la la lavagna si vede la mia condivisione adesso oppure no nel monitor no no adesso c'è la condivisione ok vedete che stm sta scendendo il mercato sta andando su ci dico madonna cioè se io mi sono un testardo voglio continuamente dico no stm di andare su compro continuamente stm questa giornata è una giornata che mi devasto il conto quindi perdo soldi continuamente quindi queste cose è importante da capirle velocemente perché se mi metto long da stamattina adesso unicredit ha fatto solo un piccolo ribalso sempre venuto a giù quindi il credito è veramente da evitare invece se mi mettevo long su unicredit anche sbagliando qua in mezzo che soffrivo un attimo alla fine ha recuperato siamo sui massimi cose sui massimi seduta andiamo a vedere adesso quindi ho condiviso la piattaforma e purtroppo Paolo ti dico questo no è uno dei errori più comuni no quello di vedere che un titolo sta scendendo in maniera importante come unicredit e provare a fare delle operazioni long senza però guardare la forza relativa di quel titolo rispetto all'indice quindi questo è uno degli errori più grandi che si fanno sì perché solitamente vedere un trend così marcato su stm fai fatica ma è la classica giornata che un mese due ti devasti il conto su un mese scusate su un mese due sedute così una due sedute devasti il conto quindi bene saperlo velocemente sono le giornate anche sul future che va su continuamente si ferma su continuamente si mettono corti continuamente rimangono sort overnight per il giorno dopo e dopo alla fine hanno conto devastato sono le peggiori giornate per chi fa trading perché come c'è una pubblicità video trend is not your friend solitamente sì il trend non è tuo amico non è così perché alla fine fai fatica a trovare le giornate che sono fortemente in trend questa dstm fortemente in trend capiterà due volte su un mese solitamente sono più le giornate che fanno di pullback va su viene giù va su viene giù come ha fatto un po' unicredit che sebbene mi ha dato tanta forza però mi ha fatto di nuovo oscillato un attimo su qualche tic lì e dopo alla fine sta prendendo un rialzo per cui andiamo a monitorare adesso perché dove sarei entrato magari su unicredit quindi io stamattina su questa accelerazione qui di unicredit magari me la sarei anche persa però sul ritracciamento in questa zona qui sarei entrato long perché sarei entrato long su questa zona perché mi ha fatto un movimento a ribasso si è stabilizzato un attimo e fatto un altro minimo inferiore a questo ma rompendo questo livello qui questa barra qui mi ha recuperato il minimo precedente che era questo per cui io su unicredit sarei entrato in questa zona qui con lo stop qui sotto alla fine mantenendo il titolo portafoglio non avrei mai perso quindi adesso interrompo la condivisione vi faccio vedere perché sarei entrato su quel livello lì allora abbiamo detto già il bhs dopo magari un'ora oppure se vedo che il mercato è la cosa migliore vedere che è forte il mercato mi dà una barra di momentum forte stamattina ha fatto veramente una barra molto forte sul ritracciamento vado a vedere sulle situazioni quindi mi testo un minimo su questo minimo qui vado a vedere se mi pone una base un 3d range se mi buca questo 3d range lo recupero io entro long perché il trend è rialzista adesso tutto sul titolo abbiamo stato forza quindi faccio bhs o su un 3d range oppure su una rotura del minimo le barre che devono essere in questa zona qui devono essere delle barre piccoline delle barre compresse quindi sulle barre compresse che non hanno di tic enormi faccio l'operazione quindi se mi parte da qui rompe il minimo me lo recupero non faccio l'operazione long dunque questa barra qui perché è ampia è una barra ampia quindi è una barra ampia quindi arriva stanca su questa zona qui potrebbe riprendere il movimento a ribasso invece se ho delle barrette piccoline che mi va a rompere il minimo e lo recupera quindi una barretta così allora io entro subito qui perché ho lo stop che è abbastanza stretto ok perché questa barra mi avviso dovrebbe buttato fuori un po di gente che si era messa long credendo il titolo vada su in realtà dov'è che hanno individuato lo stop sotto questo minimo qua quindi sotto questo minimo si mettono lo stop tutti esso dal mercato mi fanno un minimo sul ritracciamento naturalmente e da qui il mercato poi dovrebbe partire ed andare su ok di questo concetto perfetto io solitamente adesso vi faccio vedere due tre slide come ragionato stamattina quindi l'ho salvata purtroppo dove andare via dalla sala non sono riuscito quella la piattaforma che vi faccio vedere la piattaforma di volumetrica trading che si può interfacciare con la web bank quindi con la piattaforma della la t3 si può interfacciare quindi possiamo iconizzare la t3 lavorare direttamente col book grafico della di volumetrica e in questo mese vi dico la verità hanno fatto a limini hanno fatto una promozione che c'è un mese gratuito per chi vuole quindi anche il funzionato di tutto c'è un mese gratuito quindi se volete provarla avete anche la possibilità di agganciarla al conto di di web bank quindi con la t3 e ci mettete un attimo fate delle prove col book è un book veramente eccezionale sono la possibilità di farvi vedere il book il book sono adesso perché ho la piattaforma aperta di qua però vedete chi book questi qua sono i book che sono su di infatti vi fate dare le mie configurazioni addirittura dicendo che dopo se avete intenzione di abonare dicendo che avete partecipato web e ne avete fatto un mio corso avete addirittura 15 per cento di sconto da quelli di volumetrica per cui questa piattaforma io ho tirato giografico dalla piattaforma proprio della volumetrica stamattina vedete unicredito intesa sono dei titoli bambini anche che con web bank avete le api gratuite quindi dati in tempo reale in mercato italiano mi ho dimenticato questa cosa che avete le api gratuite quindi riuscite a dialogare tra la piattaforma volsys di volumetrica trading e la web bank senza pagare le api che tanti vari broker vi fanno pagare anche le altre quindi importante è risparmiato un po di soldi anche su questo collegamento che non è da poco insomma risparmiare i soldi sul collegamento quindi avete flusso dati gratis allora vedete qui stamattina intesa e ho fatto vedere subito intesa e unicredit erano più forti rispetto al mercato dopo un po fatto attenziale guardate unicredit intesa e abbiamo visto il fib quindi abbiamo messo mi sembra che ho messo ti vedete il fib che è qui sotto vediamo che il fib è nato su però vedete che ha già l'ottima quindi è veramente forte unicredit intesa rispetto al fib mi stanno dimostrando molto più forza faccio vedere due cose nel vedete nel che è bassa e debole quindi non posso andarmi a mettere long su enel che è un titolo debole l'altra cosa che ho visto dopo che l'ho messa più giù e vedete fib guardate il fib dopo accelerato guardate come hanno accelerato intesa e unicredit hanno accelerato rialzo qui le ho salvate stamattina prima di uscire dalla dalla cosa quindi abbiamo stm guardate stm siamo ben sotto i massimi quindi stm vi dimostra rispetto al fib e rispetto all'incredit debolezza stessa cosa su enel quindi abbiamo due titoli enel stm che sono deboli vado a tradare enel stm assolutamente no ok io non vado a trattare questi titoli per il rischio di andare comprare sul piccolo tracciamento mi viene giù mi prendo la botta tutto il giorno sta battendo nuovi minimi ancora stm per cui io in questo caso qui avevo visto anche leonardo che non mi sembra male neanche leonardo però vediamo che i titoli vedete bene o male sta seguendo un attimino discorso del tipo guardate unicredit eccolo qua questa è l'area dove io cerco il long l'ho segnata dopo sono andato fuori di casa non ho visto e sono tornato che erano mezzogiorno e mezzo che dovevamo fare webinar alle 11 ho chiesto se c'era la possibilità di farlo più tardi perché ero via vedete che unicredit questa è la zona vedete vedete questa barretta è la più piccolina di tutte quindi qui mi va a rompere il minimo ma in compressione quindi quella lì che è in compressione è quella che mi farebbe entrare su unicredit ok quindi lì ho visto che unicredit è più forte al mercato poi sono andato via vi ho fatto vedere questa cosa qui il fibo vedete il fibo accelera giù ma guardate che unicredit non ha rotto il fase trend di range quando il fibo è andato giù vuol dire che qui unicredit è più forte rispetto al future stesso orario ok quindi lo salvate lo stesso orario vedete che è più forte rispetto al future quindi sia un titolo che è più forte rispetto al future faccio questo perché devo andare a tradare titoli che sono più deboli assolutamente non è una cosa intelligente da fare unicredit guardate guardate unicredit alla fine sta rompendo tutti i massimi sta rompendo i massimi vediamo che il fibo è lontano dal massimo guardate il fibo è l'ha fatto stamattina al massimo il fibo vedete che il fibo cioè si vede chiaramente questa cosa dopo per carità cioè vedete il fibo ha fatto il massimo qui alle 9 40 ha fatto il massimo a 28 mila 0 50 cioè qui siamo 27 9 70 siamo 80 appunti sotto il massimo del fibo e unicredit sta rompendo i massimi quindi credo guardate anche in diretta abbiamo visto che unicredit rompe il massimo di questo titolo da monitorare andiamo a vedere stm che poco fa aveva rotto pure i minimi è andato addirittura a testare i minimi del giorno precedente magari qui potrei anche tentarlo però vi dico la verità cioè perdo tutto il giorno su un titolo che ha delle difficoltà adesso cioè voi dareste un prestito una persona che sta fallendo ha delle difficoltà voi investireste dei soldi su un titolo nel corso degli anni su telecom monte dei paschi che ha dimostrato debolezza continuamente c'è solo senso io cerco di dare fiducia ai titoli forti quando sono deboli quindi un titolo che magari potrebbe essere generale lo dico sempre sotto i 17 euro un titolo che comprerò sempre è un titolo forte ha di buoni utili e di buoni bilanci tutto quanto quindi un titolo che ha dato sempre nel corso della storia dividendo non ha mai fatto aumenti di capitali quindi non è andato in cerca di liquidità sul mercato è sempre stato un titolo che ha di buoni fondamentali quindi su questo titolo qui alla fine diversificando su vari titoli che hanno di buoni fondamentali faccio fatica a perdere i soldi è chiaro che anche STM è un buon titolo però oggi oggi non ha non dimostra tanta forza oggi quindi lasciamolo stare che oggi è un titolo debole ha delle difficoltà ok vediamo se sono domande sì ci sono delle domande però la prima te la vorrei fare io ok che è questa allora andare a vedere la forza relativa dei titoli ti dà lo spunto di di fare diverse tipi di operatività no per esempio in questo caso è detto se devo andare long vado a scegliere il titolo più forte rispetto all'indice un altro tipo di operatività che si potrebbe fare è quella di andare long sul titolo forte e andare contemporaneamente short sull'indice ecco questo è un tipo di operatività che fai di solito ti capita di fare no non la faccio però la probabilità che si può fare sì sì è corretto ad esempio se facevamo questa operatività long su unicredit e short sul future è chiaro che lì bisogna cercare di tarare bene le size perché bisogna fare dei calcoli apposta e sono bravi in matematica però mi tocca stare lì e mettere delle schede è un'operatività che solitamente lo faccio però si può fare un operativo addirittura si potrebbe anche tentare mai long su un titolo forte e short su stm magari vedendo due titoli magari questa è la seconda domanda che ti volevo fare oppure due bancari due bancari quindi abbiamo visto stm e intesa che sono due forti lì si riesce a bilanciare meglio la semane metto 20 mila euro su uno 20 mila sull'altro e alla fine unicredit era leggermente più forte di intesa oggi oppure magari due titoli che bancari che uno è leggermente più debole ho accorso tanto settimana prima magari dopo vediamo che oggi è leggermente più debole perché magari unicredit non aveva corso le settimane prima e adesso sta cercando di accelerare la seduta di oggi quindi c'è parecchio interesse quindi abbiamo visto nel corso degli ultimi di webinar abbiamo visto che prima la scelta di titoli all'inizio che abbiamo visto la forza relativa di titoli guardando i trades guardando se c'era interesse siano più volumi rispetto ai giorni precedenti quindi se io vedo che c'è un titolo che è positivo che positivo mi dà più volumi rispetto ai giorni precedenti e dico cavolo è positivo più volumi vuol dire che dovrebbe andare su bene o male su oggi il titolo se invece vedo più volumi in vendita e dico cavolo più volumi in vendita non mi metto lago sul titolo non mi metto corto e oggi abbiamo visto che c'è questa correlazione anche su questa cosa qui anche per quanto riguarda il discorso del del titolo che è più forte rispetto all'indice di riferimento quindi se riferimento in questo caso abbiamo il FIB e unicredit che fa parte del paniere del Fuzzimib altra cosa interessante casomai già che ci siamo così chiudiamo dimmi pure dimmi pure no 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 vai una divertenza diversa faccio vedere una divertenza diversa ok poi vai pure ok allora l'altra domanda che ti volevo fare è questo tipo di analisi sulla forza relativa chiaramente è un'analisi che vale oggi quindi in questo momento unicredit è più forte dell'indice in questo momento oggi STM è più debole questo tipo però di operatività presume che tu chiuda l'operatività in giornata quindi facciamo l'esempio entrare long su unicredit ti permette poi di chiudere l'operatività in giornata oppure è un'operatività che nonostante aver visto il titolo più forte del mercato decidi di tenerla anche per più giorni ecco come si prefigura diciamo il tuo tipo di la decisione di tenerlo per più giorni dipende graficamente sul daily dove si trova sì io vedo che il titolo ha stazionato fortemente nella parte bassa grafico vedo che oggi sta dimostrando veramente molta più forza rispetto all'indice vuoi vedere che sta partendo unicredit dopo un mese che è rimasto fermo sta partendo quindi oltre che fare un'operatività di scalping faccio un'operatività anche multi day quindi ne tengo un po' in portafogli per vedere se da lì il titolo inizia a salire fortemente stessa cosa invece se casomai succede che unicredit da adesso è già nella parte alta grafico la faccio in 3 day basta la chiudo durante la seduta la chiudo unicredit quindi faccio altre operazioni su unicredit quindi l'operatività sull'intraday vale solo per oggi a questo vale solo per oggi e questo per dare lo spunto per poi collegarsi alla domanda che ha fatto king ray sul sulla chat di youtube che dice questo tipo di ragionamento vale sul breve periodo ma sul lungo non sarebbe meglio comprare un titolo meno performante dell'indice di riferimento quindi lui ti rigira no la forza relativa lui dice ha senso nel breve periodo nel lungo periodo non sarebbe meglio fare un ragionamento opposto cioè completamente inverso andare a comprare i titoli che sono più deboli del mercato come risponderesti a questo tipo di domanda no ho cercato anch'io di prendere dei titoli che tante volte sono più deboli del mercato perché dico alla lunga innanzitutto dipende da che titolo è un titolo forte potremmo decidere ok guarda questo titolo qui è forte ma tornando sempre sui discorsi generali è a 14 euro tutti gli altri sono partiti come è capitato nel 2000 forte come fondamentali no intendi fondamentali nel 2009 generali era scesa da 17 è andata a 10 euro 9 80 quelli generali ha fatto fatica a intornare ci ha messo quasi due anni ritornare a 17 euro cosa che invece unicredit che era 007 ha raddoppiato subito unicredit nell'arco di 3 4 mesi ha raddoppiato subito è un po quello che è capitato su eni eni che è andata a 6 euro e ci ha messo un anno 18 mesi per tornare sopra 10 e 60 che era il livello che avevo preso io quindi ho patito 18 mesi per arrivare su quel livello lì quindi io sì se sono titoli che hanno i boni fondamentali potrei prenderlo perché dico non è ancora partito bene o male questo fondamentali lo prendo la cosa fondamentale è dividere la liquidità perché se metto ho 100 mila euro sul conto metto tutti i 100 mila sul titolo chiaro che se quel cavallo lì non va avanti sono spacciato quindi suddividere la liquidità perché alla fine è la cosa fondamentale da fare oppure investo su un etf e lì mi tolgo il problema di andare sul singolo titolo e invece per quanto riguarda rispondendo a king a king rey però anche in quel caso comunque anche se vai a scegliere un titolo che ha performato o di meno per proprio perché ha dei fondamentali importanti no come nel caso per esempio di generali o comunque di altri colossi è chiaro che se il titolo però è più debole del mercato quando il mercato riparte anche quel titolo farà sempre più difficoltà no a ripartire quindi la forza dell'attiva comunque un concetto che si può utilizzare sempre no da questo punto di vista sempre sì 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 avevo visto marzo 2009 il 9 a usare 9 marzo il mercato era iniziato ad andare su continuamente non lo fermava più nessuno eravamo 12 mila punti qualcuno sia quando era 14 15 insieme al punto il mercato viene giù ma in realtà era partito da 24 mila è andato a 12 dopo avevo visto che è tornato ancora a ridossi 20 mila punti però lì i titoli sono andati su forte i bancari sono quelli che sono andati più velocemente su quel momento lì invece sono stati un po tralasciati dopo c'è stata questa rotazione sono andati a prendersi i titoli che erano che avevano di fondamentali per cui direi lasciamoli tanto si vede dopo alla fine iniziano a incrementare fortemente i volumi il titolo in proprio due e ho nettamente più volumi di giorni precedenti quindi lì il momento di entrare dire ok vuoi vedere che adesso parte il titolo anziché rimanere fermi per cinque sei mesi si ottimizza meglio l'entrata quando vediamo determinate situazioni che si creano tra volumi e grafico del titolo quindi vi ricordo è importante per voi anche andare a vedere il webinar fatto precedentemente quindi il webinar fatto il 26 maggio dove abbiamo trattato proprio la parte dei volumi allora paolo mi dicevi che poi c'è un'altra divergenza no stavi a dire divergenza inversa che vado che è un po simile a questa qua io la vado a vedere anche dal punto di vista volumetrico questa cosa vuol dire ma infatti si mettono degli indicatori nella parte bassa del grafico e tradano solitamente le azioni una cosa importante da vedere e quando c'è una spinta di volumi molto forte sui titoli quindi abbiamo un indicatore per essere un indicatore di volumi o qualsiasi tipo di indicatori sui volumi abbiamo questa spinta forte dei volumi e non è accompagnata dal movimento del titolo quindi il titolo rimane fermo che sia una spinta forte di vendita in questo caso e il titolo rimane fermo vuol dire che da lì a poco il titolo dovrebbe andare su tempo un po il discorso di autostrade autostrade c'era questa spinta ribasso questa vendita rossa questi grandi volumi e alla fine il titolo rimaneva fermo vuol dire che il titolo è un livello che da lì parte da su stessa cosa nella parte alta abbiamo una spinta grossa di volumi in acquisto stanno acquistando forte e quindi qui vediamo che l'indicatore va su e i prezzi rimangono fermi vuol dire che lì il titolo dovrebbe prollare giù ok quindi questa cosa qui è una cosa importante assolutamente vediamo una divergenza magari fra l'indicatore che sta salendo e vediamo il titolo che sta venendo giù quindi questa è una divergenza una divergenza normale parliamo l'indicatore sta salendo il titolo viene giù potrebbe esserci anche l'indicatore sta scendendo forte e il titolo rimane fermo quindi essendo una divergenza inversa è bene a guardarle perché si vedono che il mercato stanno su per esempio il piccolo pubblico sono vendite enormi e il titolo rimane fermo vuol dire che lì c'è una spinta grossa corrisponde anche a un movimento del titolo se rimane fermo vuol dire che stanno assorbendo la liquidità in vendita oppure la liquidità in acquisto il titolo fa il movimento contrario quindi questo è un segnale su volsys se non sbaglio ci sono anche degli indicatori che te lo dicono ci sono degli indicatori su volsys che ti dicono proprio questa cosa qui ti formano delle croci abbiamo potuto mettere proprio gli indicatori appositi su volumetrica e te lo indica proprio apposta questa cosa qui sì sì lampante questa cosa qui sono domande molto interessante paolo guardiamo un attimo che guardo su whatsapp ok no paolo non ci sono altre domande quindi se vuoi andare verso la conclusione finiamo anche un pochettino prima io credo che sia un webinar questo molto interessante da poter rivedere ok sì allora spero sia chiaro un attimino il discorso della un attimo che iconizzo qui perché ho messo la piattaforma non ti vedevo più allora abbiamo durante questa sessione anche un'altra sessione abbiamo parlato di ripeto un attimo di forza relativa quindi volumi forza relativa di volume rispetto ai giorni precedenti che è importante da monitorare quando stiamo facendo training a inizio sessione guardare queste cose qui che andare a vedere i titoli che hanno parecchi trades ho fatto vedere il market scanner che ho preparato io quelli di volumetri quindi riesco a scannerizzare tantissimi titoli andare a vedere subito in maniera veloce quali sono i titoli che hanno più volumi e quelli che hanno più trades e quindi se hanno più volumi e sono positivi mi posiziono long se hanno meno volumi e c'è più volumi e sono negativi molto probabilmente la tendenza dovrebbe essere sorte è chiaro che anche qui non è che mi metto short così perché vedo sono tanti volumi e positivo clicco vado long devo vedere un attimino a livello grafico dove si trova perché se mi ha fatto più 5 una sparata grossa vado a comprare la sopra il titolo no aspetto che mi formi una di quelle figure che abbiamo visto precedentemente l'altra cosa che vado a monitorare che i titoli che sto tradando durante la sessione siano dei titoli che hanno un po di di forza perché solitamente se io devo andare magari prendermi una guardia del corpo a parte non ho bisogno di guardia del corpo adesso non si sta mai più avanti che qualcuno voglia picchiarmi mi salgo una guardia del corpo bella grossa che abbia tanta forza non una piccolina che rischio dopo alla fine che che me le prendo lo stesso e quindi farsi amici dei titoli forti quelli grossi quelli che hanno una forza relativa superiore al nostro derivato vediamo dei titoli che sono più forti oggi abbiamo visto nei credit era più forte abbiamo visto addirittura finché spieghiamo in diretta che era molto forte abbiamo visto che è andato a rompere tutti i massimi e c'è stata proprio l'esempio lampante rispetto al future di riferimento che il future era 80 punti sotto rispetto al massimo della della seduta come ha detto ala anche mi ha dato una bella idea che si può anche fare tre di andare long sul titolo più forte e contemporaneamente portare un titolo o un bancario appartenente ma nello stesso settore due bancari uno è più forte più debole nemmo la uno su quello forte e sotto su quello debole calibrando bene le size oppure farlo mare cui derivati e fare il più il titolo o il derivato short sul derivato e long sul titolo che è più forte al contrario se siamo ridosso dei minimi quindi fare short sul titolo e long sul derivato abbiamo il derivato più forte rispetto al titolo oggi andava bene ad esempio andiamo short su spm long sui credit e long short sul future prendiamo soldi su di tre alla fine stamattina subito al 10 esatto prendiamo soldi su di tre ok spero sia chiaro questo questo schema perché dopo alle volte si si perde un attimo lì davanti al monitor però la cosa fondamentale cerca di c'è un programma di registrazione su internet che è veramente bello ed è gratuito che si chiama o bs studio otranto bologna savona studio è un programma di registrazione registrativi delle sessioni cercate di imparare tramite questi piccoli particolari se non sono riuscito a perdere che ho perso qualche volta io sul mercato perché ho visto questo particolare altrimenti mi trovavo qui oggi mi mettevo long su spm avrei perso i soldi tutto il giorno e dopo non faccio più questo come lavoro quindi cercate di ottimizzare il vostro trading di guardare i piccoli particolari che sono quelli che fanno la differenza quando si fa trading senti paolo ce n'è arrivata una domanda in conclusione no che che ti faccio te la rielaboro la forza relativa vista all'inizio della sessione quindi tra le nove nove e mezza ti dà un'indicazione e questa forza relativa poi può cambiare durante il giorno per esempio che so al pomeriggio per quanto riguarda l'apertura dei mercati americani ci possono stare delle variazioni di questa forza negativa cioè un titolo che era più forte la mattina diventa poi più debole il pomeriggio sì sì capita magari magari non fosse così Alan fosse tutto certo in borsa cambia ma cambia anche dalle nove e mezza un titolo che mi ha dimostrato tanta forza prima mezz'ora da Mario 9.40 iniziano a vendere perché solitamente tanti operatori dicono domani mattina a Mario arrivano qualche istituzionale siamo corti su unicredit compriamo un milione di unicredit quindi prima mezz'ora comprano un sacco di unicredit dopo spariscono questi qua il titolo inizia a venire giù piano piano tutto il giorno capitano queste cose importante fare delle belle analisi sul grafico daily andare a vedere monitorare in modo tale da avere lo stopo stretto e casomai tenere il titolo perché alla fine diciamo prende dei bei movimenti e unicredit lo titolo da tenere stamattina è andata bene unicredit stamattina che era un titolo ha dimostrato forza ha dimostrato anche adesso ha rotto i massi può capitare che Mario unicredit mi ha dimostrato forza la prima mezz'ora e dopo alla fine viene giù o al pomeriggio quando aprono i mercati americani può invertire dimostrare più più debolezza rispetto al quello che mi hanno stato precedentemente perfetto allora io ricordo a tutti coloro che ci hanno seguito che se volete diventare clienti webank potete farlo a delle condizioni veramente molto privilegiate eh che consistono nell'assistenza gratuita diretta all'interno del trading team della banca in particolare questa assistenza ce l'avrete con me quindi un servizio di eccellenza totalmente gratuito che potete usufruire e il secondo vantaggio è avere delle condizioni molto privilegiate soprattutto all'inizio del vostro rapporto con la banca quindi per tutti i dettagli su questo tipo di promozione eh contattatemi direttamente al tre quattro sette due otto zero tre zero cinque sei oppure per email ad ananvincenzo punto gendusa chiocciolapromotori punto banco bpm punto it vi ricordo che per usufruire di questa promozione dovrete aprire il conto sul sito webank punto it inserendo questo codice promotore pf 52 118 quindi nella prima pagina troverete uno spazio che si chiama codice promotore voi inserite pf 52 118 e mi contattate perfetto paolo ricordiamo ovviamente che eh tutti coloro che invece diventano tuoi allievi e quindi eh fanno dei corsi di formazione per quanto riguarda il trading e poi vogliono diventare clienti webank hanno delle condizioni ancora più privilegiate che chiediamo sempre molto volentieri perché eh per quanto ci riguarda la formazione è alla base di questo mestiere quindi paolo io ti ringrazio e tiro appuntamento al prossimo mese sei muto sei muto sì 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 l'ho tirato adesso ok grazie mille a te alla tutti quelli che ci hanno seguito scusatemi e l'appuntamento al prossimo mese mi sembra luglio eh non lo so il prossimo appuntamento adesso devo andare a guardare la gente lo faremo dal mare casomai ok va bene grazie mille che non ce l'abbiamo a luglio esatto ciao ciao grazie grazie mille grazie mille Grazie a tutti